Mi viene il voltastomaco e… Nadia Toffa nauseata, ecco cosa è successo poche ore fa La bella Iena ha postato una nuova foto sui social in cui parla manifesta la nausea. Ecco cosa ha detto. Nadia Toffa è sempre molto attenta a ciò che accade in Italia, sia da un punto di vista sociale che politico, anche se più raramente si esprime nella tematica politica. La conduttrice delle Iene Show, nel suo ultimo post, ha rivelato di essere fortemente disgustata. Ecco per quale motivo. Nadia Toffa disgustata dalla realtà intorno. Nadia Toffa non ha potuto fare a meno di mostrare il suo disgusto per quando accaduto poche ore fa e raccontato da tutti i quotidiani italiani. Purtroppo, un uomo ha picchiato la figlia di pochi mesi. Insomma, un altro caso di quelli che farà brividire. La Toffa non ha esitato a dire di essere disgustata davanti a tutta questa violenza davvero atroce e ingiustificabile. La Iena, è sempre molto pronta a dire la sua e a sensibilizzare a modo gli italiani. Nadia e la polemica sui social. Spesso, proprio perché non sta, giustamente in silenzio e dice la sua, Nadia Toffa si attira addosso tantissimi commenti negativi. Questa volta però il suo disgusto per la vicenda sopra accennata è stato condiviso da tutti i suoi followers. Non è stata lunica, Nadia, a dire la sua sullargomento. A farle coro anche Barbara Durso che ha intervista la mamma della ragazzina scoppiando a piangere di fronte a così tanta violenza su una bambina. Assurdo, disumano per tutti, eppure questi fenomeno sono in crescita. L'unica arma è la denuncia. La violenza di può combattere solo a suon di parole, comunicazione e unione. . Insomma, Nadia ancora una volta ha dimostrato di essere dalla parte delle donne e dei più deboli, di chi ha una croce impetuosa e ha bisogno di aiuto e appoggio da parte della società. . Ecco il post che la Iena ha condiviso sui social poche ore fa. .